bella ragazzi e bentornati sul mio canale questo è un nuovo video su call of duty black ops 3 sto cercando di migliorare come vi avevo detto nel primo video ho cercato anche con i vostri suggerimenti di migliorare in tantissime cose e qui sto giocando un tutti contro tutti ovviamente preferisco giocare sempre sulla difensiva quindi cercando di tanto come andata abbastanza di culo però non voglio assolutamente star lì a correre per tutto il tempo ovviamente quindi in alcune situazioni cercherò anche di difendermi abbastanza bene aspettando magari i vari nemici sulla mappa però sto cercando di migliorare tantissimo voi continuate a darmi dei consigli ho visto anche qualche video molto interessante di lama laggante che è diciamo molto bravo a spiegare e ovviamente soprattutto anche velox lama giastron comunque seguirli è sempre molto importante per riuscire a capirci qualcosa poi magari poche volte spiegano la ma invece spiega abbastanza frequentemente anzi piace comunque parlare di armi di come usarle quali per che quale specialità cioè lui invece spiega molto di più quindi magari dovrà vedere ancora qualche altro videozzo per capire un pochino di più le cose però ragazzi sto cercando di migliorare il più possibile e volevo parlarvi anche di infinite warfare e del fatto che ci sarà anche call of duty modern warfare il primo praticamente che sarebbe call of duty 4 in regalo con infinite warfare quindi cosa dire su questa cosa praticamente ragazzi io direi che infinite warfare infinite warfare scusate non sembra tanto male perché perché prima cosa hanno migliorato un po i cecchini quindi sicuramente ragazzi su infinite warfare troveremo una tonnellata di cecchini perché c'è di nuovo la mira assistita quindi è importantissimo per un cecchino avere la possibilità anche di avere un piccolo aiuto con la mira e sicuramente sarà anche più facili da usare ovviamente ci saranno i vari salti supersonici cosa che a me dà veramente fastidio non so cosa ne pensate voi ma a me vedere gente che vola per la mappa con un paio di salti dà veramente fastidio quindi probabilmente farò molti molti più gameplay su modern warfare quindi vedremo un pochino poi come gestire la cosa però infinite warfare non mi ha dispiaciuto anzi devo dirvi la verità che non mi dispiace un gioco abbastanza interessante frenetico ovviamente bisognerà assolutamente allenarsi parecchio però però c'è questa opzione di modern warfare quindi call of duty 4 che mi piace molto perché mi piace molto perché finalmente si sta con i piedi per terra prima cosa seconda cosa non ci sono tutte queste cose che magari a voi piacciono ragazzi non so poi ditemi la vostra opinione però a me non piace tutta questa cosa qui dove c'è gente che vola super armature cose del genere è bello perché il divertimento c'è però preferisco effettivamente provare non vedo l'ora sinceramente anche se è un po una cavolata perché dovremmo aspettare un gioco nuovo non un gioco vecchio però non l'ho mai giocato a modern warfare vi dico la verità e quindi mi piacerebbe molto provarlo ho giocato abbastanza bene questo tutti contro tutti però ragazzi non ero molto attento sulla minimappa e non ho guardato molto bene le specialità scusate i bonus che ho sbloccato quindi praticamente cosa succede che qui potevo mettere in una posizione migliore sicuramente in una posizione migliore questa torretta e ho sbagliato la posizione della torretta perché questo è un luogo di poco passaggio quindi probabilmente dovevo mettere la torretta magari qua avanti dove sto puntando in questo momento ci verrà sicuramente molto più passaggio qui quindi secondo me ho sbagliato la posizione della torretta anche se a volte come potete vedere in questo momento mi ha salvato perché io mettendola dietro potevo tranquillamente concentrarmi su questo lato e avere la copertura della torretta alle spalle però come potete vedere mi hanno mandato quella cacchio di macchina insopportabile che mi ha distrutto però ragazzi io lo ammetto non è che voglio dimostrare di essere un buon giocatore anzi vi sto facendo vedere partite normalissime anche la prima è stata abbastanza normale anche se non mi ricordo male avevo fatto 22 4 che non è per niente male però ragazzi cioè il fatto è bello anche cercare di migliorare insieme cioè non farvi vedere sempre il giocatore fortissimo che finisce la partita 50 0 cioè è bello farvi vedere anche secondo me il miglioramento di un giocatore cioè partire da dal basso per poi arrivare a diventare veramente un giocatore bravo e per questo avrei voluto tantissimo fare delle collaborazioni magari con qualche youtuber ovviamente più bravo a call of duty proprio per cercare di avere del supporto per migliorare qui sono riuscito a fottere la macchinina però e quindi anche che ne so un aiuto sarebbe carina anche una mini serie dove c'è un netto miglioramento quindi anche delle spiegazioni da parte di un altro youtuber forte potrebbero essere abbastanza interessanti però sono cose che per adesso probabilmente non ho tempo di fare ne parleremo magari più avanti questa partita devo dire che l'ho fatta non proprio tutta sulla difensiva perché comunque ho fatto un bel giro della mappa e devo dire che non è andata per niente male però ragazzi vi chiedo ovviamente di mettere giù dei suggerimenti magari sto sbagliando qualcosa la posizione della torretta per esempio per esempio lì potrebbe essere sbagliata perché non è una posizione della mappa abbastanza trafficata e in più ragazzi effettivamente devo ancora conoscere bene le mappe perché ho ricominciato a giocarci adesso a black ops 3 quindi tra poco usciranno gli altri due call of duty e quindi non avrò molto tempo di giocarci ancora però vi posso assicurare che farò delle partite anche su quello mettete un bel like sono arrivato terzo ragazzi niente male per un tutti contro tutti e ci vediamo nel prossimo video vi ricordo il like e i suggerimenti per migliorare un po nel gioco ci vediamo nel prossimo video bella